Fragofragola 104.5-104.8, voice up, sedicesima puntata. Oggi parliamo del corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica. Sono con noi Claudio Battiston, responsabile formativa del corso di laurea, e Alessia Lusina Tutto, didattico. E gli studenti del secondo anno di corso, Bate, Rogero e Giacomo De Vecchi. Chi è il tecnico della riabilitazione psichiatrica? Allora, intanto mi presento, piacere a tutti, sono Giacomo e sono uno studente del corso di laurea, appunto, in tecnica della riabilitazione psichiatrica. Allora, ad essere sincero, devo dire che questa è una domanda abbastanza complicata, in quanto mi è stata fatta molte volte da familiari, amici e chi più ne ha più ne metta, e mi sono trovato molto spesso in difficoltà a spiegare veramente cosa fosse un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Quindi ieri ho cercato di sistemare un po' le idee e posso provare un po' a spiegarvi che cos'è questo mistico tecnico della riabilitazione. Allora, il tecnico della riabilitazione psichiatrica è una figura professionale di tipo sanitario che lavora all'interno di una equipe multidisciplinare, quindi in collaborazione con altre professionalità come lo psichiatra, lo psicologo, gli infermieri, all'interno di servizi pubblici e privati di tipo sanitario che però si rivolgono ad un'utenza di salute mentale. Quindi questi possono essere primariamente i centri di salute mentale, ma non solo. Quindi anche, per esempio, i servizi di diagnosi e cura, quelli che una volta venivano chiamati pronto soccorso psichiatrico, le comunità riabilitative, i servizi per le dipendenze o i servizi per i disturbi del comportamento alimentare. Le responsabilità di questo tecnico sono principalmente quelle di identificare i bisogni della persona che si rivolge al servizio, ma soprattutto il compito di identificare le abilità che la persona possiede. Sia quelle che possiede in potenzialità, quindi quelle che può sviluppare nel corso del tempo, sia quelle che magari possedeva e che a causa della sofferenza e del disturbo a cui è andato incontro ha purtroppo perso. Quindi, praticamente, lo scopo del tecnico della riabilitazione è quello di creare un progetto riabilitativo per la persona. Questo progetto riabilitativo tiene conto di queste abilità che sono state individuate, di questi bisogni della persona e si sviluppa un piano operativo. Questo piano agisce su vari livelli, che sono appunto la riabilitazione di queste attività che erano state perdute. Mi viene in mente, banalmente, un esempio banale che però può far capire bene. Per esempio, una perdita di interesse per un ragazzo di uno sport. L'attività del tecnico può essere quella di lavorare con il ragazzo affinché riacquisti questo interesse per lo sport e cominci a frequentarlo nuovamente se l'aveva abbandonato. Poi si occupa di promuovere l'autonomia della persona, sia dal punto di vista abitativo, quindi con interventi direttamente a casa della persona, ma anche dal punto di vista della cura personale e della cura di sé. Inoltre, un ambito abbastanza specifico nel quale opera il tecnico della riabilitazione è quello del reinserimento lavorativo che può essere o reinserire la persona in un contesto lavorativo dal quale era stato allontanato o dal quale non riusciva più a frequentare, oppure l'inserimento di questa persona in un contesto lavorativo protetto che possa aiutarlo non solo a andare a lavorare e quindi portare a casa i soldi, ma che sia anche terapeutico per la persona, che l'aiuti a crescere, a sviluppare nuove abilità, interessi e a conoscere anche delle persone. Un ultimo ambito che rientra nel progetto riabilitativo è quello di aiutare la persona a prendere consapevolezza del suo disturbo, della sofferenza che sta provando e diciamo sviluppare con la persona delle tecniche di gestione di questo disturbo che possono andare sia dal punto di vista di saper gestire quegli elementi che fanno capire che si sta andando incontro ad una crisi, sia aiutare la persona nel prendere con costanza la terapia farmacologica che sappiamo essere un elemento importante della terapia, non l'unico ma un elemento importante. Per concludere volevo un attimo differenziare per mettere un po' di chiarezza. Il tecnico della riabilitazione non è appunto né uno psichiatra, il quale deve laurearsi in medicina e poi fare la specializzazione in psichiatria, né uno psicologo psicoterapeuta. Infatti non prescrive i farmaci come fa invece lo psichiatra e neanche li somministra come il ruolo per esempio degli infermieri e non si occupa di sedute psicoterapeutiche che diciamo è l'ambito preferenziale degli psicologi. Quindi avrebbe un po' da dire cosa fa e la risposta è tutto il resto.